Musica Cari amici di Fano TV ben ritrovati, per lo speciale di oggi ci troviamo al Lido di Fano per una tre giorni dedicata al piatto simbolo fanese. Siamo al Brodetto Fest edizione 2021 e che quest'anno compie 19 anni. Tante le novità, tanti gli ospiti che andiamo subito a conoscere. È partito venerdì con il taglio del nastro, l'evento dedicato alla zuppa di pesce più prelibata della città. Tante le autorità militari e civili che hanno preso parte alla manifestazione. Quando si parla di Brodetto Fano è una cosa seria, lo è seria davvero perché è un evento che si è consolidato, è maturato e ogni anno è cresciuto. Sempre più apprezzato ma ha un solo significato perché ha una radice profonda e un legame forte con il territorio. È un festival, questo festival delle zuppe di pesce, del Brodetto, significa legame con la storia della nostra città, legame con le tradizioni, con il mare. Ma è anche moderno perché è un legame con la nostra enogastronomia, la valorizzazione dei prodotti di qualità. Quindi un festival per tutti i gusti, un momento culturale, un momento enogastronomico e un momento anche di divertimento. Questo evento è ormai un evento marchigiano perché ogni città delle Marche ha una sua zuppa di pesce, ma il Brodetto Fanese rappresenta il comune denominatore. Sappiamo che è un evento importante, la regione Marche lo sostiene in modo molto significativo e sappiamo anche che questo merita di diventare un veicolo di comunicazione dell'intera regione verso l'attrattività che possiamo dare in un momento dell'anno che è fuori l'altra stagione e quindi noi riteniamo che questo possa essere senz'altro un'occasione per destagionalizzare il turismo fanese, ma in generale per attrarre e farlo diventare un momento internazionale sulle Marche. La nostra volontà è quella che il prossimo anno dal Brodetto Fest nasca un evento regionale che coinvolga anche le altre città costiere della nostra regione. L'evento poi è proseguito con la degustazione di cinque diversi brodetti della regione Marche, infatti al Palabrodetto gli chef provenienti da Fano, Ancona, Porto Recanati, Porto San Giorgio e San Benedetto del Tronto hanno preparato le loro specialità. Siamo in compagnia di Pier Stefano Fiorelli al Via Oggi i Cooking Show, come vedo ci sono molti intervenuti, fatto questo che c'è molta voglia di partecipare alle iniziative ma soprattutto di ripartire. Ce n'è tanta di voglia di ripartire, fino a questo dopo appena un giorno di festival abbiamo già visto la partecipazione di tante persone, abbiamo visto cosa succede qui al Palabrodetto con due cooking show eccezionali. Questo vuol dire che la gente ha voglia di uscire, ha voglia di ripartire e noi chiaramente quest'anno con questo format abbiamo incentivato la gente a uscire, a fare una passeggiata al Lido, purtroppo mancheranno come per tanti anni è successo le tavolate, ma ci sono tanti eventi che prendono il posto delle tavolate e con grande soddisfazione poi perché già nelle prime due giornate abbiamo parlato con i ristoratori che aderiscono al festival e che in questi tre giorni cucineranno il brodetto come solo i ristoratori fanesi sanno fare, hanno già riempito i loro ristoranti, perciò grande soddisfazione degli operatori economici, grande soddisfazione del mondo del commercio, della pesca. Vediamo anche cosa succede qui al Palabrodetto dove tutti gli eventi sono pieni di gente, c'è grande soddisfazione da parte di tutti. Perciò diciamo che facciamo parte di quella ripartenza che tutti ci auspichiamo con qualche giustamente perplessità per come andranno le cose a breve, nel breve futuro perché l'autunno non sappiamo cosa ci riserva, ma diciamo che il festival non ha fatto altro che confermare l'andamento di tutta la stagione turistica fanese, perciò è un buon andamento, siamo soddisfatti anche come associazione di categoria, abbiamo aiutato tutto il comparto della pesca, più di così sinceramente quest'anno non si poteva fare, perciò grande soddisfazione da parte nostra. Anche la Camera di Commercio delle Marche è presente al Prodetto Fest. Noi facciamo parte con la Confesercenti di questo momento importante per la promozione del Brodetto, non è solo il Brodetto di Fano, è proprio cercare di valorizzare al meglio come l'accordo fatto con il Vice Presidente della Regione Marche, Carloni, ovvero tramite il Brodetto poter unire un nuovo modello di turismo che prende Fano, può prendere Civitanova, San Benedetto, Porto San Giorgio e anche altre comunità marittime che utilizzano il Brodetto anche come promozione dei propri territori. Oggi più che mai pensiamo che il turismo non sia solo la spiaggia, non sia magari solo l'endotera, il bike, ma il turismo può essere utilizzato anche con l'enogastronomia, con dei piatti particolari che creano, diciamo, dei sapori eccezionali, la curiosità dei nostri turisti, fare una rete, anche con gli stessi ristoratori, con gli stessi pescatori, possiamo veramente creare un volano di importanza molto grande utilizzando tutti e quattro questi settori e aiutando le aziende che lavorano all'interno di questo settore. A presentare gli show cooking è stato l'amico e testimonia del Brodetto Fest Federico Quaranta. Amici di Fano TV, oggi mentre scendevo verso Fano, considerate che io ieri ero in Savoia, poi mi sono spostato e sono andato in Alta Val Camonica, vuol dire confine oltrepassato tra Piemonte e Francia, poi di lì si parte, si arriva oltre Milano, oltre Bergamo, Brescia, si sale verso il Lago di Seo e poi si sale ancora l'Alta Val Camonica. E a un certo punto ho guardato l'ora e ho detto, devo essere a Fano, mannaggia, ero ancora vestito da montagna, stavo girando uno dei miei programmi televisivi. Radici, su Rai 1 nel particolare, ho mollato tutto e sono corso qui, ma mentre venivo dicevo, ma chi me lo fa fare di andare a Fano? E poi mi sono dato una risposta, responsabilità, ecco sì, responsabilità, gratitudine, tanta devozione, anche un po' amore per questo luogo, che ha creduto in me, la comunità di Fano, gli organizzatori del Brodetto Fest, quando non ero nessuno, quando dovevo ancora percorrere tanti cammini, quando i chilometri sotto le mie suole erano ancora poche manciate. Adesso, dopo migliaia e migliaia e migliaia di miglia, sono qui a dire grazie a voi che avete creduto in me. E allora proprio per questo non si tradisce la radice, dove tutto è nato. È chiaro che ho ancora molto da fare e il mio debito formativo non è colmato, ma di qui è partito. E allora sono tornato dove tutto ha avuto origine, perché nel bene o nel male non tradirò mai questa comunità. E mi sento un po' fanese, con orgoglio. Tanti gli appuntamenti partecipati durante i tre giorni, come il Meet Moretta, con la degustazione della bevanda tipica fanese, il Brodetto Bot, l'uscita in mare alla scoperta dei molluschi con l'allevamento delle cozze e la pesca delle vongole curata da Corrado Piccinetti, e il Brodetto Enkiz, lo spazio ludico creativo dedicato ai più piccoli, con giochi, laboratori pittorici e approfondimenti. Novità dell'edizione 2021 invece è stata la Pizza Bro, ovvero una pizza interamente al Brodetto, realizzata dallo chef Luca Cerbo. Sì, è una pizza molto particolare che insieme agli organizzatori del Brodetto Fest abbiamo voluto fortemente. È una novità assoluta che è un incontro tra un prodotto classico, tradizionale, quello del Brodetto Fanese, e la pizza per l'appunto. Per l'occasione abbiamo provato una pizza ad hoc, una pizza con un impasto speciale, uno scrocchiante di ervicella, è un impasto con un cuore morbido e una crosta fragrante, capace di non spugnarsi e di ospitare al meglio quello che è l'Elisi Orfanese. Quindi nel nostro caso palombo, coda di rospo, seppia e i tipici pesci dell'Adriatico vengono cotti nel Brodetto per poi essere adagiati sulla pizza e gustati uno spicchio alla volta. Quindi ci sarà una breve spiegazione per degustare la pizza, per non farla spugnare, per gustarla al meglio per l'appunto. Tutti i nostri ospiti hanno gradito, apprezzato moltissimo Pizza Bro, è stata piacevolmente, una novità piacevolmente recepita e accolta, quindi siamo soddisfattissimi sia delle presenze che dell'organizzazione, che comunque sia ci è stata vicina e presente per quanto riguarda questo evento fanese. Il Brodetto Fest è stata l'occasione anche per parlare ed approfondire sul distretto biologico più grande d'Europa. È un'iniziativa della regione assolutamente importante e unica nel panorama nazionale. Abbiamo un'agricoltura biologica che sta crescendo tanto, ma soprattutto sta diventando un punto centrale nelle strategie di sviluppo, non solo dell'agroalimentare, ma anche proprio del cibo in Italia. La scelta di trasformare la singola azienda da biologico a un biologico territoriale, quindi è un rapporto che converte tutti i rapporti e tutte le relazioni tra aziende, imprese, associazioni e la novità sulle quali le marche stanno puntando e come col Diretti stiamo dando un grande sostegno. Ieri si sono costituiti in regione con una richiesta di riconoscimento 2.100 imprese agricole portando un'importante massa critica, 100 milioni di fatturato, 70 mila ettari di terreni agricoli, quindi una grande occasione di forza, di unione per contrastare il frazionamento e per far diventare il nostro e il più grande distretto biologico d'Europa. Tra gli ospiti illustri di sabato 11 settembre, la conduttrice TV Roberta Capua. Arrivare in un posto bello come questo, vicino al mare, per parlare di cibo. Il cibo che è convivialità, che è tradizione, che vuol dire tante cose belle, ci porta alla mente tante cose positive di cui abbiamo bisogno. Non vedo l'ora di assaggiare il brodetto, non vedo l'ora di bere la moretta, quindi sono proprio felice, emozionata. Sarà una bella serata. Mi piace cucinare, ma mi piace anche mangiare, che è fondamentale, perché le due cose sono strettamente correlate. Se uno non ama mangiare, come può cucinare delle cose buone? Nella vita di tutti i giorni mi piace cucinare la cucina della tradizione, ogni tanto lanciarmi anche sull'innovazione. La serata è poi proseguita con la chef Giuditta Mercurio all'interno del Palabrodetto, che ha tenuto un cooking show dedicato alla panzanella gentile con pane semi-integrale. È una ricetta della tradizione del centro Italia, una ricetta che a me è molto a cuore, in quanto è un'azienda agricola che produce cereali e li trasforma in pane, dove il pane domina questa ricetta. Il protagonista è la panzanella, una ricetta che abbina gusti di terra a anche gusti di mare, perché noi questa sera proporremo una panzanella di terra e di mare. Un connubio che sta benissimo e si può fare comunque in mille modi, è sempre una ricetta sana e gustosissima a chilometro zero. Io sono Giuditta Mercurio, rappresento qui questa sera a Coldiretti come presidente di Campagna Amica e come responsabile di Donna Impresa. Presenterò questa ricetta insieme a uno chef, che è a Bedini Antonio, che mi aiuterà nella realizzazione della ricetta. Un'edizione seppur ancora sotto il Covid, con tante buone ricette e tanti appuntamenti, che ha saputo coniugare il buon cibo alla tradizione del nostro territorio. E con questo bel tramonto lungo il molo del Lido di Fano si conclude qui il Brodetto Fest. Io vi auguro un buon proseguimento con i programmi di Fano TV. Grazie. 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 Grazie.